Ando con il nostro molide È proprio forte, Pigly! Fa' attenzione, il motore potrebbe essere caldo Deve essere superpotente! Oh, e come ce lo è! Altrimenti come faremo ad andare fin sulla luna? Vivi una nuova avventura con Scotland Yard Venezia Penso che questi possano bastare Partiamo! Sumerevoli combinazioni da far vedere Vola nel mondo della creatività Con Mandala Machine di Millie Viva! Vorrei dedicare il prossimo cartone a Paperino Parla di qualcuno ben equipaggiato per volare Il gabbiano modesto! E ora? Il giorno Lo zio Grosselmayer Sono qui per presentare la danza dei pippi Con me protagonista Mi ha quel formicano E sei proprio sicuro? Mi sono mai sbagliato? Insomma, per le cose importanti! E ora che facciamo? Ri... Lunchtime Pluto! Che ci fai qua de... Topolino? Topolino? Chiamata per la casa di Topolino! Ci sei, Topolino? Ciao, Topolino terrestre! Caspiterina! C'è qui Topolino marziano! E' bravo il mio Pluto! E' bravo il mio Pluto! Oh, no, no! Sta facendo un buon lavoro! Questa volta li semineremo! Dobbiamo attraversare quella cascata! Ma è sembri un ragazzo sensibile e serio! Accomodati! Sono bellissime! Ma come faremo a trovare la nostra porta? E' così buio! Che grazie! Quell'uccello è un artista! Un collega! Ti regalerò i miei colori! Come facciamo ad arrivare alla porta se tutti questi struzzi a testa in giù non ci lasciano passare? Per inciso, non preoccupa... Signora che... Che vuole ascoltare la musica mentre rapina la bata! Vediamo se dentro ce n'è uno! La prossima volta che andate a vedere è un film che fa paura! Ricordatemi di stare a casa! Ma dai, tanto lo sanno tutti che i fantasmi non esistono!